Nella notte Mosca denuncia che un'aggressione con drone nella regione di Kursk è stata sventata dalle difese aeree russe, mentre si registra un pesante attacco dell'esercito russo nella zona di Sumi che ha causato la morte di un sedicenne. Dopo l'intensificarsi degli attacchi russi, l'Ucraina si prepara a un'evacuazione forzata di famiglie con bambini da 10 località. Il presidente Zelensky chiede all'Europa che le sanzioni contro Mosca siano ampliate e rafforzate. Molti componenti dei droni utilizzati dai terroristi provengono da paesi e aziende occidentali, ha dichiarato Zelensky. E mentre sono in arrivo dagli Stati Uniti nuovi aiuti militari a Kiev per 150 milioni di dollari, la Slovacchia del neo primo ministro Robert Fizzo ha annunciato che non fornirà più armi all'Ucraina ma solo aiuti umanitari. E proprio di aiuti all'Ucraina si è parlato ieri al vertice dell'Unione Europea sulla revisione del bilancio pluriennale. Le posizioni dei 27 convergono su nuovi fondi, 17 miliardi da destinare a Kiev. Mentre gli Stati Uniti muovono un'accusa pesante nei confronti di Mosca, la Russia ha ordinato più volte l'esecuzione dei propri soldati che non obbedivano agli ordini in Ucraina, ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale John Kirby. Chiara di aver sventato un'aggressione di Kiev con drone nella zona di Kursk vicino alla centrale nucleare, mentre l'Ucraina denuncia un pesante attacco russo nella regione di Sumy. Il presidente Zelensky chiede all'Europa che le sanzioni contro Mosca vengano rafforzate. Molte dei droni utilizzati dai russi provengono da paesi e aziende occidentali, dice Zelensky, mentre sono in arrivo nuovi aiuti per l'Ucraina, 150 milioni di dollari dagli Stati Uniti. Anche l'Unione Europea sta discutendo su nuovi fondi per gli aiuti umanitari da destinare a Kiev. Le esercitazioni delle forze di deterrenza strategica che coinvolgono anche le forze nucleari del paese. A comunicarlo è stata l'agenzia di stampa russa RIA Novosti, secondo la quale le esercitazioni sono state condotte dal ministro della difesa Shoigu e dal capo di Stato Maggiore Gerasimov sotto la supervisione di Putin. Nel corso delle manovre, che hanno coinvolto anche un sottomarino nucleare, sono stati utilizzati un missile balistico intercontinentale e un missile balistico lanciato proprio dal sommergibile atomico situato nel mar di Barents. Il ministro della difesa ha riferito che durante l'addestramento sono stati elaborati i compiti nel caso in cui fosse necessario sferrare un massiccio attacco nucleare in risposta ad un attacco nucleare nemico. Oggi a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo, Zelensky ha detto chiederò all'Unione europea più sanzioni contro Mo.